ciao ho fatto un ordine da notino ho fatto un ordine da notino perché ho visto due cosette che desideravo a prezzi ottimi incrociando le dita sapete che io ho perso un po la fiducia dai siti e oramai ho i miei siti preferiti e mi fido solo di quelli ma avevo già comprato in passato da nottino mi sono trovata bene in alcune cose no in altre diciamo che la maggior parte sì allora ho acquistato uno struccante occhi di quelli che uso io e che garnier occhi sensibili era scontato a 2 euro e 90 mi sembra l'ho preso poi ho acquistato questo mascara qua sulle 7 euro e venti di max factor false lash effect questo qui è un waterproof e promette di separare bene le ciglia e renderle voluminose a me non sta piacendo lo sto usando da una settimana prima di tutto l'odore cioè ha un odore fortissimo chimico è fastidiosissimo però agli occhi a me non brucia non mi piace perché liquidissimo quindi e dovete stare molto attente quando lo date a non sporcarvi sopra io puntualmente mi sporco sempre sopra se mai mi appoggia la bacchetta mi trovo un bel po di mascara qua dal naso nella mia gobbetta no per ora non mi sta piacendo vediamo quando si asciuga se migliora ma per ora no poi ho preso che in profumeria d'anglas d'aglas non li hanno più quegli ombretti a 3 di de balma io ho preso questi e sono bellissimi sono veramente belli ce lo suo anche adesso sono colori abbastanza naturali scrivono benissimo vi faccio lo swatch questo qui è chiaro ma scrive scrive benissimo guardate qua una luminosità incredibile questo qui generalmente lo uso per fare la c dell'arcata sopracciglia e sottociglia vabbè sapete voi ma questo qui va bene giusto da ecco da 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 separare ok non mi stavano venendo le parole perdonatemi e poi il pezzo forte del colore e lo stricking stricking che è un rosa marrone prugna è un insieme di colori bellissimo 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 è un rosato marrone guardate anche voi per me un colore poco definibile un rosato marrone molto molto bello e sugli occhi verdi sta benissimo perché ne esalta veramente il colore fa venire fuori il colore verde degli occhi bellissimo bellissimo colore e io questo qua l'ho pagato mi sembra 14 euro mi sembra prendo una salvietta da togliermi i colori da dosso così proseguo a farvi vedere che cosa ho acquistato ho acquistato anche questo mini un pottino lip therapy il vaselina originale è un vaselina vaselina mille usi della vaselina labbra quando ci viene raffreddore d'inverno ce la mettiamo qui sotto è un tocca sana guariamo in un anno secondo la vaselina serve per tante cose ora non fate battute su quello che dico ognuno ne fa il proprio uso a me serve per le labbra per sotto il naso quando ho raffreddore per la secchezza della pelle poi si sa che la vaselina si usa per tante cose non fermiamoci qua non vuole essere un video porno allora poi ecco qua ecco qua ecco qua che cosa ho ordinato il mio danno il mio danno il mio danno puttande palace per quello che mi veniva in mente vaselina e video porno e perché ci avevo sotto il profumo di puttande palace già e il nome è un programma e il profumo pure etat libre d'orange allora io questo profumo l'ho comprato perché ho visto delle recensioni e ho detto solita cosa stupida che faccio e ho detto potrebbe piacermi sì sì potrebbe piacermi poi vado a leggere le note e dico è un profumo del 2006 talcato floreale cuoiato animale ambra muschiato dico sì mi potrebbe piacere cavoli sì 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 allora fragranza floreale da donna naso natali first hour la fragranza contiene cuoio zenzero ambra mandarino violetta mughetto rosa note talcate muschio ma dove allora io un profumo che ho dato due volte ne ho dato anche poco perché è un profumo che dura sulla pelle e anche carina la boccetta perché molto semplice e però questo è un profumo che io non riesco a mettere non riesco proprio è una profumazione che per me è terribile sapete perché perché io quando ho sentito che era un talcato che sapeva di violetta ho detto beh se è come questo allora mi piace perché questo è un talcato con violetta ma questo no questo qui io la violetta non ce la sento assolutamente ma o se la sento proprio poco non lo sento talcato lo sento floreale probabilmente a me da fastidio il cuoio perché lo dovevo immaginare che a me solitamente i profumi col cuoio non piacciono mi sa allora se la vogliamo buttare su puttande palasse mi sa sì non so come dirlo mi sa di magari un puttande palasse di quelli dei ghetti ecco di quei profumi da poco molto fioriti che però per me ha un sentore dopo il fiorito che mi sa di sporco cioè una miscela di di te che non ti lavi da giorni ecco di te che non ti lavi da giorni e sarà la puttande palasse che non si lava io io ragazze no io questo profumo qua ho detto a una mia cara amica se lo va a sentire io glielo regalo perché io non me lo posso proprio mettere quindi io non so se lo regalerò o se lo venderò ma io me ne voglio liberare io è difficile che mi libero dei profumi perché per me ogni profumo è un gioiello io li ho scelti io li ho comprati io li ho me li sono comprati me li sono presi io me li devo usare ma io questo non riesco a usarlo e non lo userei neanche per profumare le tende o per profumare gli armadio per profumare niente neanche il bidone della spazzatura perché secondo me questo accentua la puzza della rumenta ragazze mi dispiace dire una cosa simile di un profumo oltretutto artistico però non posso dire altro sapete che io sono sincera e basta devo riuscire a mettere in questa testa dura e vuota il fatto che io lo devo sentire un profumo prima di acquistarlo non posso solo leggere le note e sentire una recensione anche voi io vi dico così poi magari voi lo indossate e vi sentite offese perché io ho detto così e io non voglio offendere assolutamente nessuno perché ognuno ha i propri gusti ognuno ha il proprio naso io ci sento quello ma ad esempio il giorno che l'ho dato a me mi hanno fatto i complimenti che avevo un buon profumo addosso che vedevo di io non ce la faccio non ce la faccio e quindi mi scuso se qualcuno di voi si è offeso perché ce l'ha e se lo mette e gli piace scusatemi io ho detto soltanto la mia personale opinione ecco mi fermo qua io vi mando un grosso bacio alla prossima